Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video, ricetta naturale per togliere le macchie dalla pelle. In questo caso utilizziamo due ingredienti che potete reperire facilmente. Stiamo andando sempre a fare sempre più ricette, sempre più facili da realizzare, quindi sono contenta perché molti di voi mi stanno mandando su Instagram le foto e i risultati. Continuate pure a farlo perché a me fa tantissimo piacere ricevere i vostri screen, le vostre foto, eccetera. Anzi, seguitemi su Instagram, su Facebook e sul blog. Allora, iniziamo subito. Oggi andremo ad utilizzare le proprietà naturali di una fragola. E andiamo anche ad utilizzare... Ed andiamo anche ad utilizzare del succo di limone che sapete che è sbiancante. Quindi vado a prendere un po' di succo di limone, lo metto sulla mia fragola e poi vado a passarlo sulla macchia. In questo modo. Ovviamente passatelo per circa 5-10 minuti. E poi fate seccare. Mi raccomando, quando utilizzate il succo di limone, utilizzate anche un filtro solare perché è importantissimo. Poi andate a farlo seccare. Fatelo due volte al giorno, al mattino o alla sera sulla macchia. La macchia praticamente è, diciamo, un accumulo di melanina che quindi bisogna, diciamo, andare a schiarire. E quindi nulla. Io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale, mettiamo qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!